Forse è stato un malore a causare la morte di Filippo Canci, 71 anni, trovato cadavere questa mattina nei pressi degli scogli, nello specchio d'acqua antistante Lidovenus a Francavilla, non lontano dalla rotonda asterope di piazza Sant'Alfonso. Il professore di matematica in pensione del liceo scientifico Masci di Chieti era stato visto l'ultima volta proprio sulla spiaggia dove nel primo pomeriggio di ieri si era recato a fare una passeggiata. L'allarme era stato lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo uscito senza telefonino e che si erano preoccupati per non averlo visto rincasare a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città attorno alle 18. Subito dopo l'allarme sono iniziate le ricerche da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco proseguite per tutta la notte. Poco prima delle 8 di questa mattina a Riva sono stati individuati gli indumenti del professore e poi c'è stato da parte dei vigili del fuoco il recupero assieme ai carabinieri di Francavilla al mare a due motovedette della Capitanerea di Porto di Pescara e d'Ortona oltre ad un elicottero della Guardia Costiera che per ore ha sorvolato la zona. Le operazioni a terra sono state coordinate dalla prefettura di Chieti mentre le ricerche in mare e dal cielo dalla direzione marittima di Pescara. A dare la notizia del ritrovamento questa mattina è stato il sindaco di Francavilla Antonio Luciani attraverso la sua pagina Facebook dove era stato rilanciato anche il messaggio di allarme per la scomparsa dell'uomo.